Ciao, oggi ti invito a partecipare alla sfida Move for your freedom, a cui darò vita a partire da lunedì 22 giugno sul mio gruppo privato Facebook Melissa Mattiussi, liberati dai blocchi e ritorna al tuo potere femminile. In cosa consiste la sfida? Consiste in 7 giorni che passeremo insieme, in cui ti inviterò a partecipare appunto a queste piccole sfide quotidiane che andranno a stimolare e a potenziare la tua libertà interiore ed esteriore a favore a sostegno del tuo benessere a 360 gradi di corpo, mente e spirito, quindi benessere fisico, mentale ed energetico e a favore della libertà in generale sul nostro pianeta Terra. Quindi se stai interessata a partecipare alla sfida Move for freedom, che sarà in esclusiva sul mio gruppo privato, iscriviti al gruppo Melissa Mattiussi, liberati dai blocchi e riprendi il tuo potere femminile. E fallo ora! La sfida inizia a lunedì 22 giugno. Ti aspetto!